Servire l'uomo Servire la famiglia, servire la famiglia dell'uomo, protagonista della nuova umanità. Questa è la missione indicata nello statuto dell'Associazione Santa Maria della Speranza Onlus, con sede a Termoli. Nata nel 2002 con lo scopo di gestire l'attività di promozione umana dell'associazione missionaria OMIT, nata a sua volta da una ispirazione di padre Marcello Fidelibus, missionario e animatore della Onlus. Numerose le iniziative messe in campo in questi anni, in Italia e in India, assistendo famiglie in difficoltà, carcerati, persone sole, marginati, giovani alla ricerca di un loro equilibrio umano e spirituale. Ma anche la ristrutturazione di una parrocchia del Tamil nel sud dell'India, ad esempio, l'allestimento di un ambulatorio e laboratori di analisi, lo scavo di due pozzi in due villaggi indiani. L'opera dell'Associazione Onlus Santa Maria della Speranza ha riguardato però anche il Bengala, zona est dell'India, in cui attraverso un'ambulanza itinerante si è cercato di dar vita al progetto di un sanatorio antitubercolare. Obiettivo è quello di offrire non solo assistenza ai poveri, ma promuovere la loro dignità, aiutandoli a mantenersi con il loro lavoro e favorire anche il dialogo interreligioso. Nei 7.000 villaggi agricoli dell'India la gente vive per terra, cucina, mangia, studia e dorme per terra. Solo il 5% della popolazione è ricca, il restante 95 vive sotto la soglia di povertà. Animati dunque dal desiderio di Padre Marcello di essere gioia per il mondo, ad Andria, presso il Santuario del Santissimo Salvatore, tre animatrici dell'Associazione hanno voluto raccontare e condividere le loro esperienze realizzate presso la Onlus Santa Maria della Speranza, formata soprattutto da un gruppo di giovani donne, diverse per formazione ed esperienze, che però ha scelto di mettere in comune non solo beni materiali, ma di sostenere progetti di solidarietà e cooperazione internazionale. Siamo qui con Clea, che ci parla di un'esperienza particolare, fa parte di un'associazione che si occupa di progetti in missione. Che cosa fate di preciso? Come siete nati? Da dove è nata l'idea? Sì, allora io innanzitutto non sono qui sola, sono anche con Cristina e Concetta, perché siamo comunque un'associazione che ha come particolarità l'unità tra le tre vocazioni, cioè quella dei sacerdoti, delle famiglie e poi anche dei vergini consagrati, delle vergini sia di ragazze che poi di giovani ragazzi. E quindi questa è la nostra forza, la forza di essere insieme e di vedere Gesù negli altri, nei poveri di fame e anche dei poveri di Dio. Qui abbiamo la nostra responsabile Cristina, mamma di quattro figli, presidente della Olus e poi anche responsabile dell'Aicato. Io ho tre bambini, mio marito è rimasto a casa oggi con i tre bambini, il più grande ha sette anni e mezzo, quindi sono veramente piccoli. Io sono stata in India, sia nel Tamil Nadu, con il nostro padre Marcello, che è un padre oblato, e lì sono stata con un gruppo di giovani che abbiamo visto proprio risuscitare, di giovani proprio presi per strada così, incontrati, conosciuti e che una volta stati in India si sono veramente capovolti e hanno cominciato pure loro a occuparsi degli altri. Poi dopo che siamo stati nel Tamil Nadu, dove comunque c'era la presenza di fondamentalismo, siamo andati nel West Bengale, il nostro padre Marcello ha fatto un viaggio, credo di due giorni, se ricordo bene, dove lui col treno è arrivato a Krishnagar. A Krishnagar il vescovo salesiano, Joseph Gomez, ci ha chiesto di soccorrere i villaggi più abbandonati che sono a confine con il Bangladesh. E quindi io e mio marito come viaggio di nozze, a parte che il nostro matrimonio è stato un matrimonio dove abbiamo invitato solo 20 persone, a tutti i miei zii la marea di parenti che abbiamo, abbiamo mandato una lettera di non invito, dove dicevamo che proprio non li invitavamo perché la gente si muore di fame e preferivamo che quei soldi che ci davano al matrimonio andassero per la gente che ha bisogno e che avevamo visto con i nostri occhi. E quindi abbiamo comprato l'ambulanza e siamo partiti, abbiamo tradotto per i dottori che abbiamo portato, abbiamo portato in questi villaggi i dottori italiani facendo una convenzione di cui Cristina ha lavorato tantissimo per questa convenzione con la Asra e Momolisana dove i dottori venivano pagati ma lavoravano in India invece che in Italia per la gente che si muore di fame e comunque abbiamo messo su un'azienda perché Concetta lì è stata in Kenya, adesso ve lo racconto a lei perché proprio è stata lei quella che... Vabbè, senti, da dove è venuta l'idea di questa Onlus? Allora, io con mio marito siamo sposati da 22 anni, io sono Cristina, sono sposata con Antonio da 22 anni e 16 anni fa abbiamo incontrato un padre missionario. Abbiamo partecipato a un incontro del Dialogo del Cuore, 48 ore, salvato il nostro matrimonio, sentivo prima durante la predica le difficoltà che oggi ci sono e grazie a Dio, ecco, siamo sposi felici con veramente sei figli, due sono in paradiso. E un giorno padre Marcello disse per le missioni c'è bisogno di una Onlus. Siccome avevo ricevuto tanto da lui e dalla comunità, ricordo che quella sera prima di andare a dormire e dissi, signore, ma come si fa una Onlus? Io voglio sdebitarmi, voglio aiutare chi mi ha dato tanto, chi mi ha ridato la felicità di scoprire te, di seguire te. E la mattina dopo, con Antonio andammo dal nostro commercialista e scoprimmo che in Molise era espertissimo nella fondazione di Onlus e quindi a maggio del 2002 è nata la Santa Maria della Speranza che in pratica sostiene tutti questi progetti di missione, quindi si è occupata dei viaggi all'estero dei giovani, delle loro missioni quando sono stati Clea, è stata parecchi mesi, lei non lo dice, ma conosce il Bengali, la lingua del posto, infatti spesso ai semafori parla con questi poveri... Vuol dire che è stata più di me perché io ad Andrea ci sto da due anni ma non ho imparato niente. E poi abbiamo deciso nel 2010 di affrontare l'Africa e Concetta è stata a Nairobi, insieme a padre Marcello e insieme a una ragazza dell'Argentina, a conoscere l'Africa. Ovviamente ne è rimasta conquistata e quando è tornata abbiamo fondato la cooperativa Arambì, che significa avanti tutti insieme, che si ispira alla Caritas Inveritate, all'economia di comunione e quindi stiamo tentando con il nostro artigianato, con questa cooperativa, di riuscire a sovvenzionare il progetto della Scuola di Arti e Mestieri. Io non sono mai andata in missione, sono mamma, sono professoressa, però mi auguro che quando i bambini cresceranno, la più grande ha 22 anni, l'ultimo ne ha sette e mezzo, anche io posso imitare i nostri giovani e servire il Signore nei più poveri. Tu invece sei stata in Kenya, allora, che esperienza ci puoi raccontare? L'esperienza del Kenya? E niente, allora, si è partiti un po' alla scoperta anche dell'Africa, perché abbiamo avuto vari incontri in Italia, per cui ci siamo, di altre persone che sono anche se impegnate nella missione in Kenya e quindi ci siamo chiesti un po' anche noi, se già facendo qualcosa per l'India potevamo anche noi donarci in qualche modo per l'Africa. Quindi siamo andati in Kenya e lì in pratica a me mi hanno messo subito a studiare l'inglese, perché è una cosa molto importante, e quindi a scuola d'inglese anche su Aili, la lingua del posto. Quindi è stata, diciamo, un'esperienza fortissima, perché comunque lì, cioè, mi sentivo una mosca bianca, no? Non è come qua che trovi più bianca, ecco. E quindi è stata un'esperienza forte appunto con la persona africana, che comunque è una persona anche molto bella, molto creativa, e quindi proprio vedere, come dire, la bellezza di Dio, no? In queste persone. E poi lì andavo insieme a una suora di un altro ordine, nella Chibera, che è una grande baraccopoli, ci sono anche le baraccopoli dove lavorano i padri devoniani, sono le missioni, e quindi andavo insieme a questa suora in questi posti dove veramente c'è una grande miseria, no? E lì quando sono andata per un attimo ho detto qui, oh scappo, mi metta a piangere, non lo so, perché era troppo. E poi invece anche lì a un certo punto apri il cuore e accogli l'altro. E quindi andavo insieme alla suora, proprio insieme ai bambini. Poi la cosa più bella era appunto la parrocchia, che in mezzo a questa grande miseria era, dall'esterno sembrava un carcere la parrocchia, proprio per proteggere e per custodire. Però là dentro i bambini stavano tranquilli. E poi niente, appunto l'impatto con l'Africa in qualche modo mi ha toccato profondamente il cuore, forse non capisco ancora il perché però. E quindi da questa cosa è nato poi il progetto di fare una scuola, arti e mestieri per le mamme e quindi raccogliere anche tanti bambini. Perché appunto vedi che l'Africano, cioè se tu gli dai un lavoro, no? Non tanto puoi approporgli qualcosa, quanto ad attendere che lui stesso ti dica cosa voglia fare, insomma è in grado, è in grado di fare tanto. E quindi questo è quello che è nato, insomma il progetto, abbiamo scritto anche un libro, però stiamo ancora aspettando che ci siano i fondi per iniziare a costruire. Allora, tu non sei sposata, loro due sì? Ah, sei sposata? Con Gesù. Ah, no, vabbè, ma dico non c'hai un marito, no. Eh no, tu non sei sposata, loro due sì. Ma non è che è un modo per sbolognarsi i figli e i mariti questa cosa qua. No, 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 oggi non ci sono. No, io non mi volevo sposare, eh. Io, come un po'... Questo sarà contentissimo tuo marito di sentirlo. Dici facciamo una cosa. No, io avevo in testa, diciamo, di essere, di dedicarmi solo a Dio e di non sposarmi. Però proprio mentre ero, diciamo, nel momento in cui mi donavo di più lì nel West Bengala, Dio mi ha suscitato questo dubbio della strada che avevo intrapreso. E così ne ho voluto parlare con il mio direttore spirituale. Così piano piano, pregando, abbiamo pregato un anno, eh, io non trovavo, non trovavo nessuno. Tra le missioni, tra le varie cose che facevo, solo ragazze conoscevo. Perché io avevo, avevo comunque, ero missionaria e avevo bisogno di, di sposare proprio una persona che fosse come me, che si dedicasse a Dio. E quindi, ehm, dopo un po' ho conosciuto mio marito. Ma comunque non è stato facile accettare il fatto di essere, eh, sposata, perché è molto più facile, insomma, anche venendo diciamo da un'esperienza familiare, dove ho visto tante, ehm, cose brutte tra mio padre e mia madre. Diciamo, io rifiutavo il matrimonio. Invece poi, eh, Dio mi ha fatto capire, soprattutto in una celebrazione di un, era, di un'ordinazione sacerdotale, il nostro padre Marcello ha detto preghiamo che Dio ci spieghi la nostra vocazione. Lì, Concetta è uscita fuori dalla messa, contentissima, che lei era sacerdote, ma non ministeriale, regale. E io invece ho detto, beh, mi ha fatto capire che non devo avere paura del matrimonio. E quindi, eh, mi sono, mi sono... Forse è tuo marito che ci deve avere paura, perché mo' si deve sbolognare i figli. Infatti, in un certo senso, è più missionario lui, non so se sono più in missione io stamattina che lui con i bambini, perché avere dei bambini è difficile tenerli, no? E quindi, eh, veramente in missione anche lui in questo momento, lì a casa, con loro. Ehm, abbiamo tutte le difficoltà che avevamo per sposarci, perché ci siamo sposati in quattro mesi, sono andate, sono svanite. Tutte venivano a cadere, tutti i problemi che avevamo si superavano. Dio veramente ci ha dato una grazia enorme, perché essendo missionaria ero stata in tanti posti, ho dovuto fare, ad esempio, uno dei tanti problemi, pubblicazioni in tutti i posti dove erano stata, quindi poi per farmi ritornare la risposta, in quattro mesi sposarci non è stato semplice, ci siamo sposati in quattro mesi, perché era... Della serie, poi non venite, non avete voluto nemmeno gli invitati, è proprio un matrimonio normalissimo. Ma c'erano i ragazzi indiani, il matrimonio. Il nostro, diciamo, testimone al matrimonio è stato proprio il responsabile consacrato, sempre, della nostra associazione, che si occupa di ogni mese di dare ai bambini l'aiuto che arriva da qui, dall'Italia, dai benefattori italiani, quindi... Poi c'era anche Rupa lì, l'altra ragazza indiana, è stato un matrimonio un po' internazionale, quindi, perché... Pochi ma buoni. Come fate a proposito per i fondi, per sostenerli? Allora, noi abbiamo la possibilità, abbiamo dei benefattori che puntualmente hanno adottato i bambini e mandano i loro fondi. Queste giornate, come quella di oggi, in cui veniamo accolti dalle parrocchie, ci servono per ovviare a delle difficoltà. In Italia c'è crisi, ogni tanto in associazione arriva qualche telefonata, ho perso il lavoro, non posso più provvedere al bambino, anche con molto dispiacere. E quindi queste sono giornate in cui noi riusciamo con questa raccolta a continuare a provvedere a tutti i bambini che abbiamo in India. Ovviamente poi Clea dall'altare ha parlato dei libri scritti da Padre Marcello e dei nostri ragazzi, è un modo per evangelizzare, per portare Dio. E poi abbiamo questi incontri per le famiglie che grazie a Dio in qualche modo riusciamo a salvare spesso dalla separazione. E si va avanti, si va avanti con... In questo momento, devo dire la verità, non è tanto la Ollus quella che ci preoccupa, ma dobbiamo mettere tutto nelle mani del Signore perché oggi la cooperativa, che è una piccola impresa, come tante piccole imprese, fa fatica. Però si prega, si chiede il pane quotidiano e forse ci sentiamo vicini a tutti, capiamo, comprendiamo che cosa significa oggi essere imprenditori in Italia, essere vicino a chi insomma con fatica porta da mangiare a casa. E quindi ringraziamo Dio veramente che ci ha dato anche la possibilità. Noi abbiamo vissuto tra di noi una comunione di beni che ha messo del capitale, che ha messo il lavoro e i nostri giovani stanno imbarando a usare anche le macchine da cucire, anche perché loro che sono stati in missione hanno visto che sono questi i lavori manuali che si devono fare tra le persone. E quindi si formano e lavorano. Si prega e si lavora e grazie a Dio io dico sempre zero zero, tanto entra e tanto esce.